Il mio progetto finale consiste nel seguire tutta l'attività di Carrera Cap Italia che viene inserita all'interno del contesto motorsport di Porsche Italia. Sono Agnese Dalbianco, ho frequentato il Master in Digital Marketing e Data Analytics qui in H-Parm e il mio tirocinio l'ho fatto e lo sto svolgendo al momento presso Porsche Italia. Seguo tutta l'organizzazione e il management dell'evento, in più contribuisco con l'integrazione di attività online su social media come Instagram, Facebook e YouTube della stessa pagina di Carrera Cap Italia. Grazie alla mia formazione in H-Parm ho ottenuto il giusto mindset e le giuste competenze sia a livello professionale che personale per poter svolgere il mio tirocinio in un'azienda così importante. Ho imparato a mettere sempre al primo posto la professionalità che è quella che ci porta a raggiungere obiettivi importanti. Oltre a ciò ho imparato delle tips che ho portato e sto continuando a portare in azienda che fanno molto comodo al mio team.